Eh, sì, in un momento in cui la Juventus non sta giocando, dobbiamo aspettare, lo sappiamo, inizia il mondiale, quindi nel giorno del mondiale noi invece parliamo comunque di Juve, va bene? Io devo fare delle pagelle, le devo fare perché se no sto male, se non faccio delle pagelle proprio sto male, dato che è uno dei format più importanti del canale, uno dei più seguiti, eccoci qua, nuovamente, pagellone della YouTuber League della Juventus. Competizione che siamo riusciti a vincere, come potete vedere dalla Coppa qui alle mie spalle, se non avete ancora visto il vlog di ieri vi invito a andarvelo a rivedere, lo trovate qui sopra nelle schede in cui vi racconto la mia finale della YouTuber League e del mio infortunio purtroppo che mi ha impedito di giocare appunto quella finale, però siamo riusciti comunque a portarci a casa la vittoria e questa è la cosa migliore in assoluto. Prima di tutto vi chiedo, come al solito, di lasciare un mi piace, di lasciare un commento con le vostre pagelle, fatemi sapere un po' quelle che sono state le vostre impressioni di tutte e tre, non stiamo parlando della partita con l'Aster, di tutte e tre le partite, quindi dall'esordio con l'Inter, passando per la disfatta che abbiamo dato al Milan per la vittoria schiacciante alla Juve contro il Milan e infine appunto arrivando alla finale. Ma vi ricordo, come al solito, XSeed, che quando si parla di giocare effettivamente a pallone entra in gioco come prodotto veramente eccellente, che vi permetterà di monitorare tutti i vostri dati, dalla corsa ai tiri in porta, ai passaggi, per diventare dei veri e propri calciatori professionisti e per migliorare anche il vostro stile di gioco. Quindi vi consiglio XSeed, vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione e poi potete scaricare tutti i vostri dati all'interno dell'app dopo un allenamento o una partita. E io direi di iniziare subito e andiamo nella grafica, eccoci qua, mi sento un po' a casa perché stiamo per affrontare le pagelle come facciamo per la Juve durante ogni partita. E partiamo da Michele degli Autogol che purtroppo è stato presente soltanto nella partita contro l'Inter, ha accettato addirittura di partire in panchina in quella partita lì, ha segnato un rigore importantissimo quando lui stesso non se la sentiva. Ha fatto la sua partita di sacrificio un po' dietro, un po' esterno, è stata una partita veramente di cuore, devo dire la verità. Quella di Michele si porta a casa il suo sei pulito, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di vederlo altre volte perché era sempre indisponibile, ma fa parte della rosa pure lui, è stato importante per raggiungere la finale pure lui e il trofeo è anche suo. Quindi in questo momento vado ad analizzare i quattro giocatori che hanno giocato sì per la Juventus durante questo torneo ma che non erano presenti alla finale. Nico dei Footwork che è stato un altro che era presente con l'Inter e poi non si è più visto purtroppo nelle altre partite. Nico che è stato importante anche con un gol appunto contro l'Inter e con un assist, quindi veramente prestazione molto importante quella di Nico nella rincorsa, nella rimonta che abbiamo fatto ai danni dell'Inter. Ci è mancato, ci è mancato perché su e giù per la fascia ha veramente dato tutto quello che poteva dare e quindi mi auguro di rivederlo in futuro, in qualche altra partita. Compagno assolutamente prezioso che si porta a casa un set nella sua unica apparizione. Così come una sola apparizione per Nicolas che io conoscevo già per via della youtuber Summer Cup dove avevamo giocato insieme, dove aveva veramente fatto di tutto e di più. Anche con il Milan ci ha fatto vedere che è in grado di fare quello che vuole con il pallone tra i piedi, ha fatto una prestazione allucinante contro il Milan. Veramente contro il Milan secondo me eravamo fin troppo forti e Nicolas in quella singola partita penso proprio che ci meriti un 7 e mezzo come voto perché veramente ha fatto un partitone incredibile. Anche lui purtroppo l'abbiamo avuto a disposizione soltanto per una gara. Speriamo di riverlo in futuro, speriamo di riuscire a creare una Juve sempre più forte con tanti giocatori che hanno indossato comunque la casacca bianconera. Passiamo a Fratino che abbiamo avuto per le prime due partite, è mancato in finale infatti mi è dispiaciuto un sacco perché con Andre abbiamo avuto un bel percorso di crescita insieme all'interno della squadra. Se la ricorderete la tripletta con l'Inter per poi arrivare alla partita col Milan dove lui è stato veramente a servizio, a supporto della squadra. Quando manca un giocatore così che si era inserito così nel gruppo che ci credeva così tanto nella squadra e manca per la finale è sempre un grande dispiacere. Quindi direi che per le due partite che disputate Fratino si merita tranquillamente un otto in pagella. Mi è davvero dispiaciuto un sacco non averlo avuto a disposizione per la finale perché si meritava di festeggiare insieme a noi in quella fredda sera a Roma. Sarà sicuramente per la prossima, speriamo che possa tornare a vestire i nostri colori anche se il suo cuore non è propriamente bianconero. E quindi questi sono i quattro che non erano presenti durante la finale, ora passiamo invece agli eroi che sono riusciti ad alzare la Coppa a Roma. Partendo da Tatino che è il mister del mese, come potete vedere dalla grafica della serie, Tatino infinito. Infinito perché i trofei delle Juventus di Allegri nel 2022-0, i trofei delle Juventus di Tatino nel 2022-1. Quindi Tatino meglio di Allegri è riuscito a motivarci spesso e volentieri con frasi del tipo se vinciamo mangiamo la pizza, quindi veramente non si può fare altro che innalzare alla massima potenza il primo allenatore in grado di vincere un'edizione della YouTuber League. Ragazzi, ci sono le categorie, nel calcio vincono sempre gli stessi. E quindi Tatino da capitano, da simbolo della Juventus è diventato allenatore e il suo tocco in panchina è stato immediatamente riconosciuto, ha plasmato una Juventus a regola d'arte, gli ha dato le sue sembianze, siamo riusciti a portarci a casa il primo trofeo. Grazie mister per la fiducia, grazie di tutto. Fene, voto 9. Allora io probabilmente sarò di parte, non ho nemmeno il quadro completo perché il portiere della Roma, Antoine, non l'ho incontrato in questa edizione della YouTuber League, l'ho incontrato quest'estate, il portiere del Napoli non ci ho mai giocato contro e non l'ho visto giocare. Ma per quanto mi riguarda, Fene è stato il miglior portiere dell'edizione. Fene, impressionante in tutte e tre le partite, si è superato in tutte e tre le partite, veramente ha fatto qualsiasi cosa. Fene, io credo che 9 sia la valutazione giusta per un ragazzo intanto umilissimo. Fene è un ragazzo veramente umile e che, adesso vi dico, vi rivelo queste due retroscene. Nello spogliatore appena arrivate mi ha detto oggi faccio o gol o assist e infatti poi su rigore addirittura ha segnato dopo aver parato mille calci di rigore e come al solito è aver fatto mille parate durante la partita, quindi promessa mantenuta. E poi siamo andati all'ospedale, perché Fene non è stato bene, ma questa è una storia che vi racconterò più avanti. Però ribadisco, per me il miglior portiere in assoluto di tutto il torneo, Fene credo proprio che si meriti un 9 in pagella, che è un vuto estremamente alto, ma che altro puoi dare? Uno degli uomini simbolo della partita all'interno del campo di gioco, veramente Fene mostruoso. Siccome è decisamente il miglior portiere della YouTuber League. Voto 6 a Dani che ha fatto soltanto questa partita insieme a noi. Ero un po' timidino all'inizio, ho avuto modo di parlarci anche in privato, anche il giorno dopo. È un ragazzo che ha vissuto un sogno, passatemi il termine, e lui stesso probabilmente commenterà qui sotto nei commenti e confermerà questa cosa. Ha convocato in extremis, siamo riusciti, siamo riusciti ad alzarla anche grazie a lui, al suo rigore battuto e ai suoi polpacci che ha lasciato all'interno del campo da gioco. Probabilmente era un po' spaisato, infatti a fine primo tempo mi ha chiesto un attimino come doveva muoversi, chi doveva marcare, perché non aveva capito esattamente lo spartito, la trama di gioco, però credo che Dani abbia fatto un'ottima partita anche all'interno di un'emozione che era visibilissima all'interno dei suoi occhi. Comunque, un soldatino, diciamo così, il Filip Kostic della YouTuber League. Grande Dani. Sei più a maschera? Allora, su maschera c'è un bel discorso da fare, perché probabilmente è uno di quelli che insieme a me, lo dico tranquillamente, era un po' più limitato dal punto di vista tecnico. Lui stesso mi ha detto quando ci hanno conosciuto, guarda, io ho sempre giocato in porta, non ho mai giocato in difesa, però mi adego alla situazione e mi metto a disposizione. Purtroppo si è fatto un paio di autogol durante la finale, uno sicuro, l'altro non ho ancora ben capito. Con l'Inter aveva sbagliato il rigore, ma la sera dal finale, ragazzi, si vede che aveva mandato giù, aveva masticato Amaro con l'errore dal dischetto, ne infila due, una carica allucinante. Questo ragazzo ha veramente una voglia impressionante, voleva battere tutti i rigori, anche quando non aveva ancora finito il giro, lui voleva andare sul dischetto, battere un altro rigore, dimostrare, insaccare un altro pallone. E si è messo a disposizione, assolutamente, si è messo a disposizione e nonostante il livello della Juventus, della YouTuber League, continuasse a crescere, lui è sempre stato lì, uno dei simboli, uno che li ha fatti tutti e tre, quindi maschera più, qualcosina di più, secondo me, della sufficienza. Sei più. Voto 7, Achino, che è mancato purtroppo nella partita inaugurale della YouTuber League contro l'Inter, è tornato in quella contro il Milan, lui aveva paura di essere la causa, no? Perché quando aveva giocato le due edizioni della Summer Cup si era sempre perso, la prima volta che manca invece siamo andati a vincere. Invece Chino è stato importante perché alla fine quella coppa l'abbiamo alzata insieme e lui è stato quello che era presente nella prima edizione della Summer Cup, io purtroppo non c'ero per impegni personali, lui invece si è fatto tutta la trafila, l'unico, insieme a Tatino e quindi si merita questa soddisfazione e Chino che, anche lui, ragazzo umilissimo, ma lui lo conoscevo da un pezzo, decide di fare un passo indietro dai titolari durante la finale e poi il mio retto femorale invece decide che dopo meno di due minuti è costretto agli straordinari, lui che voleva riposarsi almeno il primo tempo, invece tra Milan e Lazio ha fatto una gran partita a livello difensivo, è giocatore indispensabile lì di dietro che va a formare una vera e propria diga, insieme a Colpo Gobbo, che secondo me si merita 8, Lello assolutamente si merita 8 perché è il nostro punto di riferimento lì di dietro, si è comprato la maglia di Bremer apposta, ma è letteralmente il nostro Bremer, Lello è, non lo so come posso definirlo se non muro, e poi quel piedino, quel mancino ragazzi, lui che sembra un giocatore così grezzo, invece quel piedino, quel mancio è educato e ha infilato tre rigori su tre, uno con l'Inter, due volte dal dischetto contro la Lazio in finale, una freddezza veramente rara in un difensore, invece Lello ragazzi, Lello è un difensore lacchiellini con il piede alla Roberto Carlos, bravo Lellone, bravo e secondo me 8 è il voto che lo rappresenta al meglio per tutto il percorso che ha fatto e per tutte e tre le partite che ha giocato veramente sempre al massimo livello, bravo Lello, bravo, bravo, bravo. Voto 6 e mezzo a Matte, che non conoscevo, ci siamo conosciuti così come con Dani la sera della finale, non aveva giocato mai nessuna partita insieme a noi né col Milan né con l'Inter, eppure si è fatto trovare pronto, ha detto è un paio d'anni che non gioco a calcio, così come Dani ha avuto bisogno di ritrovare un attimo anche le dimensioni del campo e alcune impressioni, ragazzi c'ha una potenza in quelle gambe che sembra Malinoski, tira delle fucilate incredibili, l'avrete visto sui calci di rigore ma durante tutto il riscaldamento ha tirato così, e infatti mentre lo vedevo calciare, soprattutto nei due rigori che ha segnato tutti e due con una cannonata centrale, ho pensato, quando Allegri parla di incoscienza dei giovani, lui che è un ragazzo di 18 anni, probabilmente intende questo, ed è quella sana incoscienza che ci aiuta, che ci serve, giocatore che veramente è stato importantissimo, ha corso tantissimo, aveva anche lui un po' di problemini fisici perché dopo tanto tempo di inattività e dopo una partita così intensa, anche lui a livello di crampi, di polpacci, così faceva fatica, ma ha dovuto stringere i denti perché tra Pippega e si era spaccato un piede, io che non riuscivo a camminare, c'era bisogno veramente di rimanere lì, e quindi Matte sei e mezzo, forse anche abbondante, un bel giocatore che spero di poter avere nuovamente in futuro all'interno della rosa della youtuber league. Voto 10 al Pippega, con il suo numero di maglia, è il voto più alto che darò all'interno delle pagelle, ma penso che se lo meriti Pippo, Pippo secondo me è l'NVP assoluto di queste tre partite che siamo andati a giocare, al di là di quello che è accaduto all'interno della finale, perché già la prima partita con l'Inter, tanto un gol e un assist sono suoi e senza di lui probabilmente non si sarebbe riuscita a completare quella rimonta magica e spettacolare che c'è stata, quel 6-6 incredibile con vittoria e rigore e con rigore segnato dal Pippega. Contro il Milan ha fatto due gol e nonostante questo si preoccupava tanto di coprire perché aveva capito che lì davanti c'era una qualità inaudita con Fratino, con Campolunghi, con Nicolas, con lui stesso e quindi ha capito che serviva anche l'uomo di equilibrio. Contro l'Alazio è stato l'uomo che ha aperto le marcature, ha segnato una doppietta, ha giocato con un piede rotto, è riuscito a calciare un rigore con il piede rotto e soprattutto capitano senza fascia perché come dico sempre ci sono dei leader tecnici e dei leader carismatici. Pippo è tutti e due e mi ha fatto piacere a fine primo tempo vederlo così arrabbiato anche quando segnava i gol, comunque lui si preoccupava di richiamare la squadra, richiamare l'ordine e si vede che ha giocato, si vede veramente che ha dell'esperienza, si vede che è un calciatore che ha attraversato dei momenti durante la sua carriera, anche lui era un paio d'anni che era fermo per via del covid, è tornato ad amare quel campo, quel pallone e quel mancino che si ritrova veramente splendido, delizioso, ma dicevo mi ha fatto piacere a fine primo tempo che siamo arrivati alla stessa chiave di lettura entrambi e cioè stavamo iniziando a perdere un po' troppi palloni perché cercavamo la giocata di Fino, invece lui è un pragmatico secondo me come me, entrambi abbiamo proposto la soluzione di andare a cercare Luca con un pallone anche lungo e cercare Luca che doveva tenere alta la squadra, cercare di allontanare la lastra dalla nostra area di rigore perché ci stavano schiacciando un po' troppo il primo tempo della finale, siccome avevano dominato loro, nonostante questo abbiamo chiuso in vantaggio noi e nel secondo tempo probabilmente siamo andati meglio per questa cosa, ahimè fino al suo infortunio che ha veramente abbassato e di tanto il livello della squadra perché quando esce un giocatore così e quando gli altri hanno manca un boost a livello mentale si sente, Pipega è il classico giocatore che probabilmente tutti sottovalutano ma che secondo me è stato veramente l'ago della bilancia all'interno di questa youtuber league sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale, quindi poi dopo la roba splendida che ha fatto durante la finale, lì si è proprio sacrificato per la squadra non posso fare altro che dargli 10 così come il suo numero di maglia, miglior giocatore dell'andata secondo me della youtuber league per quanto riguarda la Juve, poi bisognerà capire se Fede sceglierà di avere un MVP generale, potrebbe essere lui comunque in assoluto l'uomo copertina per questa youtuber league. Votto 9 a Luca Campolunghi, anche qua così come il suo numero di maglia perché Luca ha segnato 6 gol col Milan e 2 con la last, quindi a quota 8 gol in due partite, capo cannoniere insieme a Crispo, Pipega ne ha fatto 1 con l'inter, 2 col Milan e 2 con la last, quindi a quota 5 in tre partite, però Luca è il centravanti, vero e proprio, Luca è forte ragazzi, Luca è veramente un bel attaccante, non so se è il più forte della youtuber league, qua poi lascerò a voi anche la possibilità di discuterne, che avete visto Crispo, che avete visto tanti altri giocatori, c'è lo stesso Samuel che è un ottimo giocatore anche se non è propriamente un attaccante, però Luca è veramente un bel giocatore e non è ancora al 100% perché quella caviglia continua a fargli male e io ho paura di capire quanti gol potrà fare Luca al 100% in questa competizione e per fortuna ce l'abbiamo noi e per fortuna è riuscito anche a tirar fuori quel pallonetto, quelle palle, di tirare un rigore dopo che l'aveva sbagliato, che era il rigore decisivo, di ritornare dal dischetto durante il rigore decisivo e di farci vincere quella finale con un pallonetto, gli ho detto in uno spogliatoio ho detto Luca complimenti, due palle grosse così e così è, voto 9 a Lucone Campolunghi, il nostro bomber, il nostro capo canoniere, giusto così e poi arriviamo a me e qualcuno potrà dire che è una paraculata perché fino ad adesso ho dato delle sufficienze e io invece mi do l'insufficienza, però cerco anche di ragionare in maniera abbastanza obiettiva, credo di essere stato il peggior giocatore di tutta la youtuber league d'andata perché con l'Inter che devo aver fatto una buona partita, infatti mi ero dato un voto tendente al 7, ricorderete che ne avevamo parlato, col Milan ho giocato poco e niente perché era giusto far giocare dei giocatori più forti che avevano a disposizione, ho giocato veramente pochi minuti e sono riuscito anche a sbagliare un rigore così come l'avevo sbagliato con l'Inter nella batteria finale. Con l'Alasio purtroppo non ho giocato, non ho giocato, sono tornato in campo cercando di dare il mio dopo l'infortunio del Pippega, non volevo battere il rigore come ho spiegato anche ieri, però poi una serie di coincidenze e di errori dal dischetto degli altri mi hanno portato a battere lo stesso con la gamba che non si muoveva e ho sbagliato il terzo rigore su tre, quindi se metto tutti insieme tre rigori sbagliati su tre calciati, ragazzi hanno un peso, dato che l'unica partita buona è stata quella con l'Inter, anche l'unica che ho giocato comunque all'interno con continuità, quella col Milan e quella con l'Alasio, col Milan avrò giocato una ventina di minuti in totale, con l'Alasio ho giocato i primi due per poi venire giù e gli ultimi sette, quindi nove minuti camminando saltellando più che camminando, non credo che mettendo insieme il tutto si arrivi a una sufficienza, ma questo per me potrà essere anche uno stimolo, ora purtroppo non posso allenarmi ora come ora, devo soltanto preoccuparmi di riposarmi e di recuperare, però credo davvero di essere stato il peggior giocatore dell'andata per la Juventus della YouTuber League e spero di poter dare qualcosa di più in ritorno, ma spero anche di poter giocare a qualcosa di più in ritorno, perché veramente non poter scendere in campo per la finale mi ha fatto male, molto male, vediamo. Ma voto 10 più a Fede Marconi perché veramente ha creato qualcosa di incredibile, di straordinario, un format mai visto in Italia, un format di successo, un format che sta funzionando e quindi amico mio, lo sai che ti voglio un gran bene, complimenti, complimentoni perché ti stai meritando tutto questo successo e anche qua ci voglia le palle, ci vuole pazienza, ci vuole coraggio perché fare quello che sta facendo Fede non è da tutti, non so quante altre persone potrebbero riuscire a fare quello che sta facendo, ci vuole impegno, ci vuole concentrazione, ci vuole voglia, ci vuole precisione, Fede è proprio la persona giusta per fare questa cosa e come gli ho detto in privato spero che la Roma possa vincere il girone di ritorno per poterlo battere in una finalissima a maggio, magari ancora una volta a Roma, magari ancora una volta a casa sua e magari ancora una volta, anzi per la prima volta da giocatore decisivo durante una finale perché mi piacerebbe riuscire a regalare una gioia anche ai miei compagni di squadra che fino adesso mi hanno veramente supportato e questa coppa è tutta loro, questa coppa è tutta loro, però devo dire la verità siamo riusciti a creare un'identità di squadra, non per il modo di giocare a calcio ma per il modo di ragionare con il gruppo, veramente abbiamo creato un gruppo ragazzi impressionante e credo che questa sia stata la vittoria più bella della Juventus alla YouTuber League, non tanto per la coppa quanto più quell'empatia che siamo riusciti a creare tra persone che magari si conoscevano a gruppetti e invece si è creata una bella alchimia e di questo sono veramente contento, ma aspetto anche le vostre valutazioni sotto nei commenti, fatemi sapere se secondo voi sono giuste oppure sbagliate, se qualcuno è troppo alto, se qualcuno è troppo basso, se qualcuno meritava di più se qualcuno meritava di meno